Pisa siamo andati a visitare un centro di eccellenza mondiale per il trattamento per la cura dei tumori e malattie degenerative spina dorsale. Il servizio è di Gianluca Vatti. La chirurgia spinale adesso ha un alleato in più in sala operatoria. Si chiama Masor ed è un robot in grado di eliminare nel corso di un intervento per patologie vertebrali il rischio di mal posizionamento di una vite per correggere una instabilità della spina a seguito di un trauma o di una malattia oncologica. Il robot non cambia le malattie, non guarisce nessuno ma rende il piano del chirurgo attuabile con certezze maggiori. Sappiamo senza dover cercare dove dobbiamo andare. Nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa, l'unico in Italia, il robot è arrivato lo scorso novembre. Domani effettuerà il 22esimo intervento. In sala operatoria il robot prima acquisisce le informazioni sulla posizione del paziente successivamente guida la mano del chirurgo indirizzando gli strumenti chirurgici sulle traiettorie pianificate precedentemente con l'attacca. Per il malato i tassi di complicazione derivanti dall'intervento si riducono notevolmente. Grazie. Grazie.